Un viaggio all'interno dell'ex monastero di Santa Clara, da vent'anni ormai in attesa di ritornare, patrimonio di tutta la città. Siamo entrati con le nostre telecamere per verificare lo stato dei lavori ed il quadro complessivo è di uno spazio ormai quasi pronto a diventare il nuovo centro culturale di Pavia. All'interno dell'area, un tempo anche caserma militare, troveranno infatti posto la biblioteca Bonetta, l'archivio storico civico e la biblioteca Ragazzi. Pensiamo a questo non solo come la nuova biblioteca di Pavia, ma anche come un centro culturale che potrà ospitare tante attività. E ne viene in mente una. Sarebbe un posto bellissimo per fare cinema sotto le stelle. Non solo una biblioteca, ma un centro culturale a 360 gradi. Le idee insomma non mancano e nemmeno gli spazi disponibili. Nel frattempo si sta lavorando su due piani distinti, il completamento dell'ultimo lotto da un lato e la ricerca di nuove risorse attraverso il bando cariplo dall'altro. Attendiamo ovviamente risposta alla nostra candidatura perché pensiamo che su questo luogo si dovesse fare un investimento e quindi la scelta di utilizzare questo importante percorso di fondazione cariplo, di scommettere su questo luogo, è forse la scommessa più grande della legislatura. Aspettiamo con fiducia e pazienza il risponso di cariplo. E sulla valenza politica del recupero di quest'area l'assessore Galazzo non ha dubbi. Sarà uno dei segni più tangibili della legislatura targata dei Paoli. Ai nostri successori lasceremo, spero, un centro completato, allestito e tanto lavoro di pensiero per capire come farlo vivere. Però sono le grandi sfide che danno il senso di un percorso amministrativo e quindi su questo luogo lavoriamo davvero con grande passione.